Lo sport a Perugia ci mette la faccia e lo fa al Quasar Village, struttura che con il coinvolgimento di tutti i suoi operatori ha promozione un importante progetto che coniuga sport e solidarietà. È partita infatti e sarà attiva fino al 27 aprile una raccolta di figurine il cui ricavato servirà l'acquisto di almeno 5 defibrillatori da donare a società sportive del territorio. I protagonisti e volti di questa iniziativa sono oltre 850 giovani atleti, 15 società sportive e anche dilettantistiche del territorio, tra cui AC Perugia Calcio, Sir Safet Iconad Perugia e Well Planet Tum Perugia. È un'iniziativa veramente benefica, importante, dobbiamo raccogliere e acquistare più figurine possibile per poter permettere l'acquisto dei defibrillatori. Noi ci teniamo particolarmente e siamo molto contenti che tutte le società sportive hanno aderito con grande interesse, con grande impegno su questo progetto. Credo che poi questa possa essere considerata a ragione la più bella manifestazione promozionale dello sport in Umbria. La maggior parte delle discipline che si praticano nella nostra regione, tantissimi giovani che oggi saranno qua e che hanno prestato la loro faccia, affinché lo sport sia sempre più conosciuto e praticato. L'occhio sicuramente attento deve essere per la solidarietà, ma dobbiamo cominciare proprio dai giovani e dai giovani sportivi, affinché ci sia sempre maggiore solidarietà tra di noi e verso di coloro che ne hanno bisogno. L'occasione per dare una giusta visibilità alle società sportive e soprattutto ai ragazzi che decidono di fare sport e soprattutto a quelle società che permettono con il loro lavoro, con quello straordinario lavoro di volontariato, di far fare sport ai nostri figli. Tutti gli eventi che parlano di sport sono importanti perché si lascia sempre per ultimo lo sport, poi specialmente i sport minori perché in Italia si parla solo di calcio, invece sono tante realtà sportive che devono essere conosciute. L'iniziativa vede anche il coinvolgimento del Comitato di Corciano della Croce Rossa italiana che gioca un ruolo importante. Una volta raccolti i fondi necessari saranno destinati alle società sportive dove noi ci occuperemo anche della formazione e delle manovre salvavita. I nostri clienti avranno diritto a ogni 10 euro di spesa a un pacchetto di figurine gratuito. I pacchetti possono essere ritirati in alcuni punti vendita del centro che sono il Perugia Store, il Gioca Village, Sesta Base, Open Games, King e la Casa Centrale dell'Ipermercato. È possibile anche acquistare questi pacchetti e i punti vendita nei quali è possibile acquistare questi pacchetti al costo di un euro sono la tabaccheria e special events e chiaramente presso il punto di vendita della Croce Rossa. E sempre la Croce Rossa di Corciano si occuperà della vendita in galleria durante gli eventi che da qui alla fine dell'iniziativa verranno promossi in suo sostegno.